Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergina che protegga. Allora, carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata del Catechismo Romano del Concilio di Trento. Siamo giunti all'episodio della puntata numero 25. Siamo nella sezione dedicata ai sette sacramenti. Abbiamo in un paio di puntate, credo esaurito, la parte generale, quindi la parte introduttoria su quello che sono i sacramenti, la loro efficacia, l'importanza, il loro numero in generale. Adesso comincerà un'amplissima trattazione aperto dei sette sacramenti a cominciare dal sacramento del battesimo. Vi dico soltanto che il battesimo prende i paragrafi dal 166 al 166 al 193. Quindi sono 27 paragrafi e sono appunto circa una ventina di pagine. sintomatico, vedere quanto appunto il Catechismo Romano di Trentino dedica alla trazione di questo singolo sacramento. Quindi basta semplicemente confrontare questa lunghezza con quella dei nuovi catechismi per comprendere la differenza che c'è. Questo perché il battesimo è il sacramento dei sacramenti, nel senso che chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo ad ogni creatura, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dice il Signore. Quindi ci accingiamo quindi con questo spirito a questa trattazione, ci prendiamo tutto il tempo che ci vuole. Non è importante fare in fretta durante tutte quante le catechesi, è importante fare bene, che ci siano delle cose che possano edificarci, concorrere come sempre alla nostra conversione, alla santificazione, perché il fine di tutto quello che facciamo insieme, che cerco di fare anche perché io per tutti non ho nient'altro che la gloria di Dio e la salvezza delle anime, il maggior numero di anime possibile. La cosa più bella è che molti, spero tutti quelli che ascoltano le cose che ormai da anni metto in giro, li possano rincontrare in paradiso, ovviamente sperando che ci vada anch'io, perché cosa che non è tutto scontato, quindi per la quale chiedo sempre molte preghiere. Detto questo, avendo dato anche un po' di tempo, qui perdonate che ascolta la differita a chi sta in diretta di agganciarsi e collegarsi da dei problemi avuti, cominciamo la trattazione. Il battesimo, paragrafo 166, sentite il titolo, necessità di parlare spesso del battesimo. Da quanto abbiamo detto intorno ai sacramenti in generale si può ricavare quanto sia necessario per ben intendere la dottrina e ben esercitare la pietà cristiana, capire quel che la Chiesa propone di credere su ciascuno di essi. La tentazione di fare subito il pit stop è irresistibile, quindi sono immediatamente caduto senza neanche combattere. Quindi attenzione, necessario per ben intendere la dottrina e per ben esercitare la pietà cristiana, che è un modo differente di dire la vita santa e devota, capire quel che la Chiesa propone di credere su ciascuno di essi. Amici miei cari, non dimentichiamo mai, e adesso questo, perdonatemi se lo ripeto anche perché, noi abbiamo una risorsa naturale, data da Dio, importantissima. Se funziona questo, funziona tutto. Mi posso un attimo permettere, vado al volo, avrò il software, di rileggere, per capire l'importanza di questa cosa, il prologo del Vangelo secondo Luca. Guardate, Luca era una persona colta, istruita, oggi lo chiameremo un laureato, era un medico ed era l'assistente di San Paolo. Provate a vedere come sono scritti, come è scritto il Vangelo di Luca, è come sono scritti gli atti degli apostoli. Cioè, il Vangelo di Luca è quello che per esempio riporta l'episodio dell'annunciazione, della visitazione, della nascita di Gesù, no? Della presentazione al Tempio. Io ho studiato questa roba nell'esegesi contemporanea, ma guardate, cioè, si deve ridere per non piangere. Tutte le lucubrazioni che fanno gli esegeti al Magnificat, non l'ha detto veramente la Madonna, quindi l'hanno cominciato a dare il genere letterario, l'accostano al Cantico di Anna, quindi Luca se lo sarebbe inventato. Ma due astrusità pazzesche! Cioè, sulla base del prologo che adesso vi leggerò per avvalorare questa frase che abbiamo sentito, c'è un discorso molto semplice. Siccome San Luca era uno veramente scientifico, non come i razionalisti, esegeti moderni, bultmaniani del metodo storico, quelli non sono scientifici, quelli sono scemi, non scientifici. Uno che è scientifico cerca i fatti, 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 fatti su cui appoggiare le commissioni e le persuasioni. Siete che dice? Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti sui successi tra di noi, e qui sicuramente fa riferimento ai moltissimi apocrifi che già circolavano da loro, che narrano le qualunque, quindi le favole a cui, ah, sapeste quanta gente che ci ha bevuto? Le favole, le cose che Gesù bambino parlava, faceva i miracoli, tutte le cose qui, tutte le cose strane, sensazionali che acchiappano le gole spirituali e il desiderio di straordinario, no? Perché si pensa che nessuno crede su quelle cose, ah questo è vero fondamento, eh? Non è quello il vero fondamento. Poiché molti hanno posto a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio uno e che divennero ministri della parola? Apostoli, no? Così ho deciso anche io di fare, attenzione ai termini, ricerche accurate, ma non c'è questa, non è lezione biblica, se no sarebbe venire voi, andate a aprire il software con la ESA, e vedere il testo ebraico, il testo greco, ricerche accurate, attenzione, su ogni circostanza fin dagli inizi, ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi, ed iscrivertene per te ho reso conto ordinato, illustre teofilo, perché ti possa, attenzione ancora, rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, la casa costruita sulla roccia, cioè se tu una verità di fede la conosci, la fondi su uno fondamento stabile e la capisci, quella non te la leva più nessuno, capito? Non te la toglie più nessuno. Ecco perché è così importante. Io lo capisco quando magari si fanno le catechesi sul catechismo romano, eminentemente dottrinali, queste magari possono anche essere un po' più pesanti, infatti lo vedo poi anche dai riscontri delle visualizzazioni che sono un pochino inferiori. Mi dispiace un po', ripeto, ma non tanto per me e per quello che faccio, a me non interessa nulla di avere successi numerici, basta soltanto che un'anima, tra esse giovane e giovane, ci stanno, non so quanti, migliaia di video su YouTube. Se fosse un'anima soltanto che si fosse convertita è già fatica sufficientemente ben spesa. Però dispiace perché purtroppo noi esseri umani siamo tutti un po' così, cerchiamo tutti la pappa pronta oppure il fondamento dice, ah c'è la riferazione privata X, c'è il mistico Y, ha detto quelle cose, ha detto il mistico di riferazione privata, quindi do questa fiducia incondizionata a delle cose che salvo ciò su cui è incontrovertibile che si sia da dare fiducia, che ne so, tu mi dici la mistica Santa Teresa Davila, chiusa la discussione, è finito, ti leggi il castello interiore, mi dici Lud, mi dici Fatima, mi dici questa roba è qui, chiuso il discorso. Però il mistico ancora vivente che dice che c'ha messaggi da X, Y, Z, l'apparizione ancora in corso, cioè se uno vuole sondare questi terreni che sono potenzialmente pericolosi, la libertà dei figli di Dio lo faccia, però che su quello tu pretendi di andare a costruire le fondamenta della tua fede, ma anche no, non lo devi fare. E per la verità questo non bisogna farlo neanche su apparizioni e su mistici certi, perché il fondamento è la comprensione, ci viene detto qui, capire quel che la Chiesa propone di credere. Perché quel dono naturale che il nostro Signore ci ha dato, che è l'intelletto, se tu lo fai funzionare, ti fonda graniticamente su una base che non te la distrugge nessuno, non te la intacca nessuno. Ok? Ecco perché è così importante, cioè se gli uomini, come dire, fossero dritti al 100%, tanto per far capire, visualizzazione del catechismo romano 10.000, del mistero di Giuda, che è un bellissimo cerchio di catechesi, però si fonda sui scritti di Maria Valtorta, con una relazione privata, di meno, ma per carità di Dio, capite bene quello che sto dicendo, c'è l'amore che c'è io, e quanto li tenga attendibili, ma Maria Valtorta lo sanno tutti, insomma, ci saranno le ore a parlare, però da un punto di vista, come dire, generale, più importante è questo, perché Maria Valtorta è un di più, nel senso che, come tutte le rivelazioni private, ti dà, come dire, dei dettagli, dei particolari, certo ti vedi, c'è degli spunti di riflessione straordinari, no? Però il fondamento, ciò su cui tutto si apprezzo, è questa, è la fede, è la fede conosciuta e compresa, perché la rivelazione privata ha sempre un ruolo di approfondimento di un dettaglio della fede, focalizzazione di un particolare, evidenziazione in un certo momento storico di un aspetto più che di un altro, guarda per esempio le rivelazioni del Sacro Cuore al riguardo, no? Ma la base è sempre questa, per questo che è così importante, però, come si vede, tutti quanti noi, siccome questa è un'operazione un po' più, magari, faticosa, magari anche un po' meno gratificante, magari anche un po' meno stimolante, io per esempio, tra i libri che ho scritto, uno dei più importanti, anche quello un pochino più, io mi rendo conto che è un pochino più pesantuccio da leggere, che è la vita morale e le virtù cristiane, però quel libro lì è basilare, perché ti fa capire come sei fatto dentro, quali sono, come dire, i processi attraverso cui funziona, come dire, la formalizzazione e l'esplicitazione delle nostre libere scelte, quindi della nostra libertà, e poi ti presenta il quadro di tutte le virtù cristiane, praticamente, in sintesi, cardinali, teologali e morali. Quindi, se tu c'hai quel quadro davanti, tu ce l'hai un'idea di quella che è la vita cristiana, c'hai anche un'idea di come poterla vivere se c'è voglia di farlo, ma guardate che se no non pratichiamo le virtù, almeno in grado ordinario, non ci andiamo in paradiso, ok, dobbiamo farla quella cosa lì, non è che è un optional. E questo è un cammino impegnativo, anche da un punto di vista, appunto, dell'acquisizione, proprio delle conoscenze a tal fine necessarie. Scusate che ho fatto una digressione, se no facciamo manco due paragrafi oggi. Comunque, ma leggendo l'Apostolo, scusate, concludo, Luca che cosa ha fatto? Mi è rimasto impiccato un passaggio. Perché ha scritto l'Annunciazione? Che ne sa Luca di quello che ha detto l'Arcangelo Gabriele alla Madonna? Se l'ha inventato? Gli eseggeti cominciano a vedere. Ah, vediamo l'Annunciazione e il racconto di vocazione di Mosè, e il racconto di vocazione di Isaia. Ah, vedi, ci sta qua, io sarò con te, e l'Angelo dice, il Signore è con te. Mosè dice, ma io non so parlare, e la Madonna dice, come avverrà questo, non conosco uomo. Vedi? Quindi questo è un genere di ritirare, è un cliché che si ripropone. Luca è andato dalla Madonna, che era ancora viva, e gli ha detto, senti, io sto prendendo appunti, io devo fare un Vangelo ordinato, io devo vedere i fatti, devo raccontare alla gente com'è che il verbo si è incarnato, che ti è successo? È quella che l'ha raccontato la Madonna. Tutto è tanto semplice. Il Magnificat si genera letterario, ma quale genera letterario? Il Magnificat sono le psissime verba che ha detto la Madonna, senza nessun dubbio, l'ha detto esattamente così, così come scritto, come San Luca l'ha riportato. Punto e basta. Chi gliel'ha detto? Come facciamo a sapere che Gesù a dodici anni stava nel Tempio tra l'ottore a pregare? Quello è visto sempre soltanto con Giuseppe e Maria, Giuseppe era morto, ma chi gliel'ha detto a San Luca? Chi gliel'ha detto? La fata Turchina? Chi gliel'ha detto? Ci vuole la scienza infusa, no? Te l'ha detto lui. Sono andato a chiedere, non reso conto, andare a fare ricerche accurate su fatti storici, su circostanze accadute, perché tu possa avere un fondamento solido. Te l'ha detto lui? Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Sapeste quanta gente oggi affligge che vogliono capire le situazioni delle leggende, la situazione della Chiesa, da quando si è dimesso Benedetto XVI, ma oggi so quanti sono passati, che non c'aveva nient'altro da fare, fammi stare zitto, 11 anni. Dico allora, se ti vuoi fare un'idea, fattela, perché tu c'hai il sacro santo diritto di fartela e per certi aspetti anche il dovere di fartela, perché non possiamo lasciare che ci scivolino addosso gli eventi e come dire, ah vabbè, io non voglio sapere niente. No, come non voglio sapere niente? Però attenzione, per farti un'idea sugli eventi, tu devi studiare, devi documentarti, devi leggere, leggere con, come dire, con atteggiamento distaccato. Non devi aver già deciso e quindi devi leggere soltanto quello che ti piace, che avalla quello che tu pensi e non ti confronti con chi la pensa differentemente, anche con chi ci avesse un pensiero, che ne so, scomodo o anche pericoloso. La vera indagine, tra virgolette, scientifica è questa. Quando 3-4 anni fa ci furono i problemi ben noti a tutti, e che fai? Ti adegui al pensiero comune così? O ti fai un'idea tua, ma non un'idea tua a sentimento, capito? Perché anche se uno a sentimento si facesse un'idea che corrisponde a quella giusta, non fa bene lo stesso. Perché non te la devi fare a sentimento, te la devi fare a cognizione di causa, sulla base anche qui di elementi solidi, fondati, argomentati, in maniera che quantomeno si avvicini all'incontrovertibile. Chiaro? Questo è importantissimo. La nostra fede non è fondata sulla qualunque, chiaro? La nostra fede non è razionalmente dimostrabile così come si dimostrano i teoremi cosiddetti scientifici. Cioè tu non puoi dire, ah, guarda che la Santissima Trinità esistita lo dimostra così come il quadrato dei quadri dei cateti uguale a quello costruito sull'ipotenusa. Assolutamente no. D'accordo, su questo non ci piove. Ah, però attenzione, eh. Ah, però attenzione. Noi non siamo, come dire, puff. Ho detto tante volte che Gesù Cristo non è che dice, è venuto, ah io sono figlio di Dio, prenderlo e lasciare, credere o no. Sembra tutto il contrario, è venuto, io sono figlio di Dio, tu prenderlo e lasciare. Ha fatto così? Ma anche no. Certo che l'ha detto che era figlio di Dio, ma mi sembra che abbia dato dei segni, no? Tutto il bambino di San Giovanni è costruito intorno ai segni, i sette segni. Che cosa sarebbero? Sono sette miracoli grossi quanto una casa. Dal vino al Lazzaro. Chiaro? Chi è che fa i miracoli? Il miracolo è proprio, è la prima attestazione certa dell'intervento del Digitus Day. Perché per fare un miracolo ci vuole Dio. Punto e basta. Ma mica ha dato solo questo. Ha cacciato i diavoli, no? Se io scaccio i demoni col dito di Dio, perché per scacciare il diavolo, il diavolo a noi ci fa una faccia come un pallone, dicono. Non è che un essere umano può mettersi a fronteggiare il diavolo, eh. Gli schiaffi che abbiamo preso sono la dimostrazione perpetua, dal peccato originale in poi. Cioè fa una faccia tanta. Nessuno può competere contro il diavolo. Nessuno. Nessun essere umano. Noi possiamo competere sia in maniera ordinaria che in maniera straordinaria solo perché siamo battezzati, abbiamo la grazia e l'aiuto del Signore. Sennò chi ci compete col diavolo? Ma mi sembra che il nostro Signore ai diavoli faceva correre. E non è che come gli esorcisti di oggi si metteva uno, due, tre, quattro, cinquant'anni per cacciare il diavolo. Perché purtroppo questo succede. Taci, esci da costui. Sipso facto. A gambe levate tutti quanti. Non è un segno questo? Quando hanno detto ma tu sei Belzebul. Che io so, io so Belzebul. Mi sembra che il Regno dell'Inferno sia molto ben organizzato. Vedete gli argomenti razionali. Se uno arriva e lo smonta, cerca di farti qualche domanda. Gesù stesso stava su questa logica. Ma non è finito qui. Gesù vedeva i pensieri dei cuori, no? Quante volte dimostra, sapendo quello che pensavano. Vi ricordate la religione del paralitico? Guarisce, dice, ti sono rimessi i peccati quelli che cominciano a pensare. Ma questo che si crede esse? Solo Dio può perdonare i peccati. Ma non si erano fatti sentire. Cosa dice l'Angelo? Gesù, sapendo che mormoravano nel cuore, dice, sentite, tipo, è sfuggita l'ultima sillaba. Dico, ma secondo voi, cosa è più facile dire? Ti sono rimessi i peccati o dire alzati e camminati? Cosa sta dicendo Gesù? Guardate il logos. Allora, rimettere i peccati è proprio di Dio, giusto? Ma se io dico a una persona che ti siamo rimessi i peccati, non si vede niente dall'esterno. Ma se io glielo dico, vuol dire che io sono Dio. Quindi tu non ci credi che io lo so, ma te lo dimostro. Alzati e cammina. Perché ha fatto quel miracolo? Quel miracolo, poveraccio del paradico, non l'ha fatto per guarire il paradico, principalmente, ma lo ha fatto per dare un segno che lui era Dio e quindi in quanto Dio poteva rimettere i peccati. Io spero che chi sta ascoltando capisca, capite che roccio. Quindi noi non è che oggi tutti quanti cristiani, la fede è un fatto di coscienza riguardo alla vita privata. Ma quale vita privata? Che fatto di coscienza? Che stai a dire? Ah, lo Stato è laico, quindi lo Stato, quindi la fede sono affari privati. Però lo Stato è laico, perché molti non credono e quindi... E allora una volta quando c'era lo Stato cristiano, il re cristiano, era una cosa, capito, che tu adesso non potresti farlo più perché vai a fare un'imposizione arbitraria e soggettiva sulla vita del prossimo. Ma che dici? Ma che dici? Da quando Gesù è venuto sulla terra, andate e battezzate chi crederà, capito? E sarà battezzato, sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Tu non puoi rifiutare la fede a capocchia. Non si può. E i segni il Signore continua a dargli. Quante volte ho detto durante le prediche. Non credi alla presenza rea dell'Eucaristia? Vada a fare una passeggiata a Lanciano e dopo mettiti in ascolto dei dati scientifici, dato che oggi solo questi sono i cosiddetti dati che impressionano. Aspettiti, va a vedere che cosa dice la scienza del miracolo di Lanciano. Dopo che facciamo, però, non vai più a messa la domenica? Dopo quello che hai visto lì? E che gli racconti poi il giudizio particolare? Ah no, ma io non ci credo nella presenza rea. Come non ci credi? Come non ci credi? Va a Lanciano. Cioè dopo non è più tanto problema di fede, eh? Ah, io non credo che Gesù Cristo fosse il Dio. No. Bene, vada a fare un giretto a Torino, quando è possibile, ma un po' da un'occhiata alla Sacra Sindone. Dopodiché, leggi di qualche studio documentato su quella che era la Sacra Sindone, ma prova a dire che Gesù Cristo non è Dio. Prova, prova. E quindi c'è Dio che dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltarlo, no? In privato, ma anche in pubblico, no? Uno Stato può fare una legge che contraddice esplicitamente la volontà di Dio con la scusa che è laico, ma non esiste proprio. Poi lo vedranno questi signorotti quando sono morti, o quegli altri signorotti che si permettono di fare cerimonie inaugurali di pubblici eventi sportivi internazionali come quelli che sono visti in giorni scorsi. Vai, vai, continua, continua. 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 Vediamo che gli vanno a raccontare a domine Dio al giudizio particolare, questi signori qui. Tanto tutti quanti là devono alla fine. Tutti là devono passare. Va bene. Mo San Pio V e chi ha scritto e San Roberto Bolbellarmino che hanno scritto sto catechismo non si arrabbieranno che sto a chiacchierare troppo io e non sto a leggere catechismo. quindi riprendo. 25 minuti di introduzione, vabbè. Ma leggendo l'Apostolo con maggiore attenzione, ognuno ne dedurrà con sicurezza quanto sia necessario ai fedeli. Sentite una perfetta cognizione del battesimo. Perché guardate, figli animi cari, la gente oggi battezza i figli quando è ora che piano moglie, due, tre, quattro, due, ma nessuno, quattro, cinque, sei, sette, otto mesi, un anno, due, tre, quattro. Io queste cose le so perché so farlo da vent'anni, quindi c'ho le prove. Perché non si rendono minimamente conto di quello che è il battesimo e di quanto sia necessario per la salvezza. Non si rendono conto. O quegli altri, scienziatoni, eh. Ah, scienziatoni, perfetti figli della mentalità moderna. Proprio... Ah, io non lo battezzo il mio figlio. Perché non posso mica appogliere la religione. Poi quando sarà grande, sceglierà lui. Sì, eh. Allora ti dico un'altra cosa, io dico sempre questa è un'altra cosa. Dico, da mangiare? Che che ti ha chiesto di mangiare il ragazzino? Te l'ha chiesto? Per caso? No. E allora, fallo mangiare quando ti dice c'ho fame, no? Se questo è il criterio. Che ti ha chiesto di lavarlo? No. Lava-lo quando ti dice è ora di farmi una doccia. Così nel partempo ti sarà avvenuto il colera, le ghiattole, non si sa che cosa, insomma, no? Ma che discorsi sono? Che discorsi sono? A sto punto era meglio che non lo metti al mondo, perché che ti ha fatto una telefonata, ha detto, uè, voglio che lo metti al mondo, eh. Cerchiamo di assaperti la vita perché devo venire sul pieno da terra, vedi un po' quello che devi fare. Ma che discorsi sono? Dedurre con sicurezza quanto sia necessaria ai fedeli una perfetta commissione del battesimo. Egli, con frequenza, San Paolo, e con parole solenni e piene dello Spirito di Dio, rinnova la memoria di questo mistero, ne rileva la divinità e ci pone con esso sotto gli occhi la morte, la sepoltura e la risurrezione del Redentore per farne oggetto di contemplazione e di imitazione. Qui tra parenti sono citati alcuni passaggi delle epistole paoline di cui devo necessariamente andare a dare una rapidissima scorsa e lettura. Per esempio, almeno in parte, Romani 6, 3, che dice testualmente Non sapete quanto siamo stati battezzati in Cristo e Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Con legamento diretto tra il battesimo e la morte di Gesù. Gesù Cristo è morto in croce, figlioni miei cari. La morte di croce di nostro Signore Gesù Cristo è efficace per la nostra salvezza. E com'è che tu entri in contatto con la morte di Cristo? Col battesimo. Perché poi continua nel versetto 4. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con Lui nella morte. Perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. E conclude, così anche voi consideratevi morti al peccato. Il battesimo è il funerale del peccato, originale e attuale. Morto come Cristo è morto veramente. Morto quello risorge una creatura nuova, una creatura celeste, una creatura chiamata e abilitata a vivere nella santità in forza della resurrezione di Cristo. Senza questo una persona che non è battezzata pecca in continuazione. Non bisogna avere paura di dirlo da un punto di vista oggettivo. E non ce l'ha la vita nuova. Non può diventare santo. Non entra nel regno di Dio. Non esistono i santi anonimi, come diceva qualcuno che tanto chi lo conosce ha già capito negli anni sessanta o i cristiani anonimi. Non esistono. E questo è Romani. Poi, Primo Corinzi 6.11. Andiamo a vedere che altro ci dice il nostro grande amico San Paolo. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, dice lui, non erediteranno né immorali, né idolatri, né adulteri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci, erediteranno il regno di Dio. Questo è il classico passo in cui, se San Paolo fosse ancora vivo, non lo so che gli avrebbero fatto oggi. E se qualcuno lo cita, rischia di andare a passare qualche guaio. Perché capite, no? Effeminati, sodomiti, non si può neanche nominare una roba del genere. Tant'è vero che abbiamo visto le sceneggiate, le parodie blasfeme e di questo argomento sull'ultima scena di Nostro Signore, a qualche evento di qualche giorno fa. O sbaglio. Versetto 11. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. Battesimo. Il lavaggio spirituale che toglie le sporcizie, quali queste. Siete stati santificati. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello studio santo. Adesso i passaggi sarebbero tanti, le lettere di Paolo Paolo. Questi sono un piccolo antipasto. San Paolo è stato l'apostolo che più degli altri ha sviluppato una teologia battesimale veramente spettacolare. Proseguo la lettura. I parroci quindi, ecco, non pensino mai di avere speso troppe fatiche e troppo zelo nel trattare di questo sacramento. Consolazione per noi poveri parroci. Colgano anzi l'occasione di parlarne anche al di fuori di quei giorni in cui, secondo la tradizione, si dovrebbero in maniera tutta speciale spiegare i divini misteri del Battesimo, cioè nel sabato di Pasqua e Pentecoste, quando la Chiesa un tempo soleva con grande devozione e solennissime cerimonie amministrare questo sacramento. Per esempio, sarebbe assai opportuna la circostanza quando, dovendo amministrare il Battesimo a qualcuno, essi notino l'intervento di molto popolo per assisterà alla cerimonia. Sarà allora molto facile, se non richiamare tutti i capi che si riferiscono a questo sacramento, almeno spiegare l'uno l'altro elemento, cosicché i fedeli vedano espressa dalle cerimonie battesimali la dottrina che ascoltano e la meditino con animo attento e devoto. E, detto fra noi, il Battesimo in vetus sordo, perché di questo si parla, perché purtroppo il Battesimo in novus sordo è stato molto ridotto, molto semplificato, molto, come dire, diminuito anche nella portata pregnante di certi segni, alcuni sono stati tolti del tutto, altri sono stati, come dire, un po' anacquati, diciamo così, perché ciò che la Chiesa fa nella liturgia e ciò che crede, la liturgia è la traduzione in termini sacramentali salvifici ed efficaci di ciò che la Chiesa crede, perché attraverso quei sacramenti si realizzano quegli effetti specifici che noi conosciamo e sappiamo dalla fede. Ne seguirà che ognuno colpito da quello che vede compiere su di un altro, riandrà dentro di sé all'obbligazione contratta con Dio nel ricevere il Battesimo e insieme si domanderà se la sua vita ai suoi costumi lo mostrino quale esigerebbe la sua professione di cristiano. Paragrafo 167. I vari nomi del Battesimo. Affinché quanto dovrà essere insegnato riceva la spiegazione più limpida possibile, dopo aver fissato il significato del vocabolo, mostreremo quali siano la natura e la sostanza del Battesimo. Tutti sanno che Battesimo è parola greca, che Battisma, si dice in greco, che indica nella Sacra Scrittura non solamente l'abruzione connessa col Sacramento, ma ogni genere di abruzione. E qui ci sono le fonti, Neemia 4.23, Michea 7.48.9, Ebrei 9.10, Marco 7.48, Ebrei 9.10. E perfino la passione, quando Gesù dice che c'è un Battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Ecco, ci sono le citazioni dei Vangeli corrispondenti, Marco 10.38 e Luca 12.50. Tuttavia, negli scrittori ecclesiastici esprime non un qualsiasi lavacro corporale. Anche il Battesimo di Giovanni Battista si chiama Battesimo, ma non era un sacramento. peraltro segni ripresi dai bagni significativi che si fanno in alcune località per volontà di Dio, per esempio i più famosi è l'Urd, ma anche con le Valenza. E lì si fa una bella immersione, ma non è un sacramento, è un sacramentale ed è un fortissimo segno penitenziale. Quindi, gli scrittori ecclesiastici, quando parlano di Battesimo, non vogliono alludere a un qualsiasi lavacro corporale, ma all'avacro unito al sacramento, accompagnato dalla prescritta formula verbale, ecco te battizzo in nomine Patris et Fidi e Spiritus Santi. In questo significato appunto l'anno di frequente usata gli Apostoli in seguito all'istruzione di nostro Signore Gesù Cristo. Adesso sentite che bello. I Santi Padri hanno adoperato anche altri vocaboli per esprimere il medesimo rito. Sant'Agostino, per esempio, lo denomina Sacramento della Fede, poiché chi lo riceve fa professione scusate, di fede integrale nella religione cristiana. Altri lo denominarono illuminazione, poiché la fede professata nel Battesimo irradia i cuori di luce. Già l'Apostolo del resto aveva detto alludendo all'istante del Battesimo Ricordati i primi giorni quando, dopo essere stati illuminati, affrontaste la grave prova delle afflizioni. Ebrei 10, 32 E il Crisostomo, il grande San Giovanni Crisostomo, nel discorso ai battezzati, parla promiscuamente di purificazione in quanto mediante il Battesimo eliminiamo il vecchio fermento e ci trasformiamo in una nuova sostanza. Parla pure di sepoltura, di piantagione e di croce di Cristo. La giustificazione di questi appellativi può desumersi dalla lettera di San Paolo ai Romani, quella che abbiamo letto prima. Capitolo 6, versetto 4 E' chiaro pure perché San Dionigi chiami il Battesimo inizio dei Santissimi precetti. Questo sacramento, infatti, è come la porta che dischiude l'adito alla partecipazione della vita cristiana e da esso prende inizio la nostra obbedienza divina ai divini comandamenti. Tutto ciò dovrà essere brevemente spiegato a proposito del nome. Vedete? L'aspetto è importantissimo. Al Battesimo un adulto ci arriva solo se fa professione di fede integrale della fede cristiana. Quando viene battezzato un bambino, la professione integrale della fede cristiana, lo vedremo, lo fanno i padrini per lui, e il Battesimo stesso infonde nel bambino la virtù teologale della fede. Per cui attenzione tutti quanti, tutti battezzati, tutti, nessuno escluso, ha ricevuto il dono della fede divina e cattolica. Per cui, se questo dono è stato perduto, la responsabilità è del fedele battezzato che l'ha perduto. Poi, la responsabilità personale potrebbe essere ampiamente diminuita, qualora, cosa che oggi purtroppo non di lato accade, l'educazione alla fede cristiana in famiglia e purtroppo anche in parrocchia sia stata zero quasi, perché la fede è un dono che va comunque coltivato, perché altrimenti non porta frutto, rimane, come dire, inerte, informe, però tutti l'abbiamo ricevuta. Per cui dire, mi piacerebbe tanto avere una fede come la tua, insomma, perché nessuno ha la fede, come dire, di serie A o di serie B. No, la fede l'abbiamo ricevuta tutti allo stesso livello. Bisogna vedere cosa abbiamo fatto con questo dono che il Signore ci ha donato. Quindi, la purificazione anche, la sepoltura, abbiamo visto, sepolti con Cristo, in riferimento alla passione alla croce, l'inizio dei Santissimi Precetti, appunto perché è la porta d'ingresso nella vita cristiana. Senza il battesimo non si potrebbe accedere al sacramento per antonomasia, che è quello proprio tipico di noi cristiani, che è la cristia. Ora, paragrafo 168, magari facciamo questo e poi ci fermiamo. Definizione del battesimo. Parecchie definizioni del battesimo possono ricavarsi dagli scrittori ecclesiastici. più conveniente e opportuna di ogni altro appare però quella tratta dalle parole del Signore in San Giovanni e dell'Apostolo agli Efesini. Il Salvatore dice Chi non rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio. E l'Apostolo, alludendo la Chiesa in Efesini 5,26, afferma che Gesù l'ha purificata in un lavacro di acqua con la parola divina. Ne risulta che il battesimo può giustamente essere definito il sacramento della rigenerazione, cioè della rinascita, mediante l'acqua e la parola. Noi nasciamo da Adamo di cui siamo discendenti perché non siamo figli di ira per natura ma in virtù del battesimo rinasciamo in Cristo figli di misericordia poiché a quanti lo hanno accolsero ai credenti nel suo nome diede potere di diventare figli di Dio che non dà sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono nati. Per dirla Adamo ed Eva erano costituiti nella dignità altro che di figli di Dio entrambi perché rivestiti di grazia rivestiti di donne preternaturali della scienza infusa e tutta di più col peccato originale hanno perso questa dignità sono calati da figli di Dio sono diventati uomini e uomini anche abbastanza abrutiti quindi uomini tendenti ad un grado di essere più basso del proprio sta roba riguarda tutti gli esseri umani nati dopo il peccato originale tutti per questo che di per sé gli uomini di per sé in questo stato sono tutti quanti figli di ira per natura di De Fincisi San Paolo cioè soggetti all'ira e all'indignazione di Dio per aver sperperato dilapidato buttato alle ortiche un dono inestimabile quello di essere figli di Dio pur essendo enti creati e materiali come siamo noi e che cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo? a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare così potrebbe anche dire di ridiventare figli di Dio questi che non dà sangue attenzione che il testo greco dice non dà sangui plurale e qui chi vuole approfondire facciamo un paio consiglio per gli acquisti città di catechesi il peccato originale l'origine di ogni male perché dà sangui da volere di carne da volere di uomo quindi i sangui il volere di carne il volere di uomo generano figli di ira chi rinasce dall'acqua e dallo spirito ridiventa figlio di Dio e se non rinasci l'acqua e la spirito non puoi entrare nel regno di Dio noi non possiamo prendere queste parole di domine Dio e infischiarsene diceva sì il battesimo sì ah vabbè però se uno non ha già la sua credenza religiosa lasciano in pace perché tanto mica è attivo non ha la sua credenza religiosa dentro la sua religione ci sono certamente alcuni buoni principi e se la segue tranquillamente potrà accedere alla salvezza e quindi quindi prendiamo queste parole che il nostro signor ha detto e le mettiamo nel dimenticatoio un conto è dire se una persona all'annuncio del Vangelo non gli arriva o se si trova nell'impossibilità oggettiva o soggettiva di conoscerlo quindi sta in un'ignoranza incolpevole sia da parte sua sia da mancata omissione di che il Vangelo glielo doveva praticare non va ipso facto all'inferno perché una coscienza ce l'ha e se vive cercando di ottemperare e uniformarsi dei tammi della coscienza il signore può trovare il modo per fargli arrivare gli effetti della salvezza pur non essendo battezzato perché in questi termini si depolerà ma questo fa tutto eccezionale ordinariamente questa cosa qui non funziona così chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà sarà comandato chi non rinasce d'acqua e d'aspirata non può entrare nel regno di Dio termino la lettura del resto quali siano i vocaboli con cui piacerà rivisciare la matura del battesimo quali che siano importa soprattutto insegnare al popolo che questo sacramento consiste come sempre dichiarano i padri in una abluzione alla quale devono essere applicate secondo l'istituzione del salvatore determinate e solenne parole qui citato Matteo 28 19 io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo andate in tutto il mondo annunciate il Vangelo alla tua criatura battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato cioè emerge fra l'altro dalla nettissima testimonianza di Sant'Agostino la parola si applica all'elemento e si ha il sacramento questo l'abbiamo già visto nella parte introduttoria dei sacramenti speciale diligenza dovrà essere usata in tale spiegazione affinché i fedeli non cadano nell'errore di credere come suol dirsi volgarmente che l'acqua stessa conservata nel Sacrofonte per l'amministrazione del Battesimo costituisca il sacramento no esso è invece compiuto solo quando l'acqua viene usata per lavare qualcuno pronunziando insieme le parole stabilite dal nostro Signore e poiché come abbiamo detto da principio parlando genericamente di tutti i sacramenti ciascuno di questi consta di materia di forma i pastori dovranno mostrare quali esse siano nel Battesimo ed infatti i paragrafi seguenti che non approfondiremo oggi sono dedicati appunto alla materia e alla forma di questo sacramento in particolare il 171 che cosa è necessario della poca però per oggi ci fermiamo qui per non presentire troppo questa catechesi Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga e la Santa Vergine